Allora, sondaggi, sondaggi, vediamo intanto cosa vale Renzi e cosa valgono gli altri, come stanno andando i partiti dopo questa scissione, Index. Allora, la Lega è al 33%, fortissima sempre, appena sotto il risultato delle europee, il Partito Democratico è al 20.5% e quindi ha accusato, dopo la scissione di Renzi, una flessione, però scusate, europee 2019? Sì, rispetto alle ultime europee il PD è sceso, il Movimento 5 Stelle è al 19.8%, è risalito un po' rispetto all'europea del 2019, andiamo avanti. Fratelli d'Italia al 7%, Forza Italia al 6%, quindi secondo Index il sorpasso ormai netto, il Partito di Renzi Italia Viva viene dato da Index al 3.5%, grosso modo quello... Tutto sto popolo non ci sta, diciamo. Però ha appena cominciato, bisogna vedere quali sono le iniziative politiche, insomma, no?